ancora una volta ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo video sono io a xxall xx75 sono tornato qui per il ritorno di granny horror game bedrock edition la scoperta nella riscoperta di granny ok entriamo in questo posto che fa paura e andiamo ok qui ci sono dei bottoni dove premere ok una porta bloccata ok ho trovato la chiave e a 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 ok ok da questa parte ci potrebbe essere qualcosa ho trovato un martello un martello serve per per rompere le cose a 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 ok allora ci vediamo tutti ragazzi e ci vediamo per il prossimo video ciao ciao